Scusa se non ti invito dentro. Direi che stiamo benissimo qui. Prego. Grazie. Allora, di cosa volevi parlarmi? Camilla, mi dispiace chiedertelo, ma io ho bisogno di sapere se tra te e Davide c'è stato qualcosa. No, ma capisco perché tu ripossa pensare il contrario. Quando è venuto a casa ieri sera, io gli ho detto che stavo andando avanti. Io ho fatto credere che mi riferissi a Davide. E perché l'hai fatto? Perché qualche sera fa ho visto Turi in un locale che ballava, che si divertiva. Io non ci credevo che fosse lui, non l'avevo mai visto ballare così nella mia vita, mai. Ed è lì che ho capito. Il problema non è Turi che non si sa divertire. È che Turi forse non si sa divertire con me. O non mi ama più ed è per questo che lui è riuscito ad andare avanti e io no. però questa mattina era qui per te. Beh, magari non riesce ad ammettere neanche se stesso. Niente, non lo so. Sono solo che è tutta colpa mia, io non avrei dovuto fingere. Forse se non avessi fatto tutto questo non sarebbe successo.